Nei video girati da alcuni studenti ci sono passeggeri in piedi tra i sedili, qualcuno ha covacciato sui gradini della porta e poi altri seduti uno fianco all'altro. Con la ripartenza delle lezioni in presenza, tornano le scene di assembramento sui mezzi pubblici. In questo caso le segnalazioni riguardano l'autobus in viaggio negli orari di affluenza scolastica da Agazzano a Piacenza e viceversa, attraverso Rivalta. La madre di un alunno spiega che al mattino il pullman è strapieno e i ragazzi a bordo raggiungono gli istituti in città restando in piedi, mentre altri si mettono sugli scalini dell'uscita in maniera pericolosa. A fronte di questo problema un altro genitore di Agazzano punta il dito contro i mancati rimborsi per gli abbonamenti scolastici non utilizzati l'anno scorso a causa della didattica distanza. Seta, l'azienda del trasporto pubblico locale, replica che in queste prime settimane di servizio invernale le quattro linee che transitano da Agazzano verso Piacenza sono state controllate senza registrare situazioni di criticità strutturale. Le presenze a bordo degli autobus sono sempre risultate entro i limiti massimi consentiti. Nella fascia oraria dalle 6 e 30 alle 7, prosegue Seta, sono ben nove i mezzi che da Agazzano viaggiano verso Piacenza, nel rispetto del limite massimo dell'80% dei posti totali, compresi quelli in piedi.